E benvenuti ragazzi, eccoci qua in questo nuovo video su GTA V Online Regà, oggi sarà una nuova gara, l'Ipao Mega Rampe 26 che ho creato con le mie soffici mani Allora, attenzione, ho messo senza collisioni perché sta gara, prima eravamo full lobby Io sono dovuto uscire, non si capia niente, questa è una gara da pochi giocatori Ho messo, dovevo ridurre il numero di giocatori per questa gara, perché ovviamente se no è un casino farla in tanti Adesso vi faccio vedere, figuratevi, già si fa fatica senza collisioni, figuratevi con le collisioni È da EasyRect Comunque, c'è una parte molto difficile di questa gara, che il freeclawler deve passare perfetto E adesso vi faccio vedere appena arriviamo, eh Allora, dando attenzione a questa curva qua che è pericolosissima Piano Perché si rischia di andare di sotto, vedi, vedi, si è salvato a pelo quello là Ma il senno è il pelo Allora, chi era? Nino? Ma il senno è Nino a pelo Allora, che è? Oh, mazza Teletrasporto Allora, qua, esplosioni, 3, 2, 1 Boom La, 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 la Respauliamo e mi ha preso un check Ho messo quei barili esplosivi per trollare Gli altri? Alla fine ci ho trollato io GG Comunque, vai con le frecce adesso, le frecce qua Piano Guarda, guarda come si è girato il freeclaw Freeclaw C'ha dei ammortizzatori in questo veicolo, rega Che sono impressionanti Brutti, frò Brutti No Siamo messi malissimo Nino Mi dia una mano per il favore Allora, vai Albero, pensaci tu Allora, rega, qua O il trucco è andare veloce O piano Noi ci andiamo di ignoranza Veloci Vai Via così Velocità Estre- No, 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 no Ok GG Preso il check O piano O piano è più difficile Bellini E qua Mazuna se l'ho presa storta Eh, era tutto veloce Era tutto veloce Rispauliamo Non so neanche se ci sarei arrivato Così veloce Ok l'ho calcolata così Piano piano col turbo che ti porta qua Ok Ora Panchine saltellanti Mamma mia quanto salta sto free crawler Con le panchine è veramente impressionante Vai Terza panchina Qua è pericoloso Oh rallentato Ok Allora qua uno alla volta Facciamoli che è meglio Frena Uno alla volta si potrebbe anche fare tutto insieme Vai proviamoci Ma perché Mi devono venire queste idee geniali So che si fanno una alla volta Idei geniali Deluzione Allora Alla fine Perché devo accelerare proprio alla fine Vai qua facciamo le veloci Chi è che suona? Chi è là dietro? Vai così Ultimo Cioè l'ultimo dei grandi Adesso iniziano i piccolini Allora È Nino È Nino che suonava Vai Nino Uff Eh qua vedi anche lui Usa la tecnica Eh vedi Ok rischiamo di cadere Vai Eh Mamma mia come l'ho ripresa qua Non ce l'ho voglia di farmi tutto eh Non mi chiedete come l'ho ripresa A volte sto free crawler Regà Fa cose strane Ok Vai Gli ultimi due Qua eravamo cascati prima Wow Yes Ci siamo Ora Attenzione questa parte È molto da easy rect Allora Prima andata Per favore Tagliato male No 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 Qua Perfetto Dobbiamo stare un po' più in alto qua Vedete qua a sinistra E così ci passiamo tranquilli Senza Ah Che cose strane che fa il free crawler Vai Vi ho detto che c'ha gli ammortizzatori Ragazzi Non buggati Di più Ultra buggati Qua vediamo se riusciamo a fare tutto insieme Ok Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ora Check preso Qua è la parte Del demonio eh Questa è la parte quella difficile Frena Mazzuna ragazzi Che non frena Free crawler Freni Zero Vai Allora partiamo un po' più avanti Da qua Ok Fatta E poi c'è la parte lì del demonio Poi c'è la parte lì del demonio Vai Allora Non troppa velocità qua È così Ok Col profondo Del mio Corazón E fa anche lo slide Che non lo fa mai Allora vai così Mamma mia Qua c'è sempre traffico Vai Allora qua bisogna Mettersi bene Vai vai Passate O passo io Perché insieme Qua non ci passiamo Insieme qua non ci passiamo Infatti Lo sapevo che non ci passiamo Insieme Qua ci passa malapena uno Vai Così Allora per favore Non farmi cose Strane Con questi ammortizzatori Mamma mia Allora Primo andato Dai select Poi Attenzione Reggiriamoci bene qua Ok Vai così Allora Mettiamoci meglio Va Ok Vai col secondo Allora dobbiamo essere No così siamo storti Vedi 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 Non va bene così Dovevi essere certi Che lui atterra dritto qua Il free crawler intendo Ok In teoria Ok così va bene Una volta che voi atterrate dritti Eh sta parte però è veramente Un po' complicata Non è proprio Facile Devo mettere un po' Un livello Più avanzato Di questa gara Ho messo il livello facile Ma in realtà È un po' complicata Comunque Vai Ora Stessa cosa Atterriamo bene qua Abbiamo un po' Perfetto Ci siamo Direi che Direi che Siamo dritti Yes Ce l'abbiamo belli miei Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo belli miei Ce l'abbiamo Ora Primo Salto Vai col secondo Pum Guarda che bella sta parte Qua con i cerchi di fuoco Veramente da GG Piano 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 Vai Ok qua è troll Passate qua a sinistra È la via buona Di là È chiuso Ci ho messo qualcosa Che ora non ricordo esattamente Cosa ci ho messo Ma qualcosa ci ho messo Qualcosa che bloccava la via Allora vai Freak Lawler Qua c'è un bel saltino Cerchiamo di stare dritti E poi è terminata la gara Facile Sette minuti Da Easy Rack Poi Freno Allora qua mettiamoci già dritti Se no vi mettete dritti qua Mmm È perza Perché rimbalza troppo Sto coso Vai No Ah Ve l'ho detto Fa dei rimbalzini molto strani Allora dobbiamo Cercare di atterrare Aspettate un attimo Così Vai Non mi rimbalzare Guarda 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 Tutto buggato sto coso Mamma mia Scatola Tra l'altro Le tre mega rampe matematiche Cinque scusatemi Cinque mega rampe matematiche Allora Vai così Adesso vi faccio vedere Voi avete visto ovviamente Già dalla miniatura Ma Adesso vi faccio vedere bene Come sono Ste rampe matematiche C'è da fare due calcoli Lì Bisogna fare i calcoli Belli miei Ok Aspettiamo L'ascensore Che si sposta Ultimo No penultimo Divanetto Per noi Per far Divanetto Levate Se no perdo l'ascensore Perder treno Ok Perder treno Vai Divanetto Per noi Boom Preso il check Ora A sta parte Qua è da easy wreck Vai Oh frena Perfetto Ste porte da calcio Per chi non lo sapesse Sono molto buggate Quindi È un attimo trollarsi Vai Altre due Velocità Oh Mamma mia Fa di quei versi Il flick load Ragazzi ho paura Quando fa ste cose così Chissà da che parte cade Adesso È incontrollabile Boom Ci siamo Ora Ecco qua Le 5 mega rampe Noi stiamo in questa centrale Vabbè che roba Ragazzi Una ragazzi Ovviamente non è questa 4 per 1 Quanto fa 4 per 1 Facciamo due calcoli 4 per 1 Mmm Fa 4 Però da che parte 4 Allora ragazzi Ve la dico io la via È questa qua Rosa O viola Questa qua 4 Contando dall'altra parte Quello è il troll 1 2 3 4 Dunque era 4 Quindi Nelle altre Ci sono 4 freni E qua è l'unica via Dove non c'è il freno E noi Andiamo a vedere Mamma mia Con 20.000 flip Andiamo a vedere Se piglia il traguardo Vediamo Non so sicuro Invece lo piglio Tutto calcolato Alla perfezione Belli miei Tutto alla perfezione Ragazzi Fatemi sapere Se questa gara vi è piaciuta Scrivete nei commenti Se la giocate Lasciate un bel like E noi come sempre Ci becchiamo al prossimo video Bella ragazzi Grazie a tutti Grazie.